Allora sono in quattro, facciamo una bella posizione in quattro, con tre donne e quattro uomini fatta bene, ok questa è la posa perfetta, la facciamo vedere ad altri gruppi, vediamo, bellissima Perfetto, moto e ragazzi con qualità, ci siete? Va bene, accomodatevi, voi in quattro ci siete, c'è lui, lui da solo con tre, vai pure, lui da solo con tre, favore a fondo speciale Vai Monica, ci siamo? Bellissima, ok Giori, ok, la tua è pronta, ecco, vediamo, eccoli loro ragazzi, foto, foto, super fotogenici, yeah Abbracciate le ragazze, ci siamo, ci siamo, abbracciamo, facciamo una bella posizione, guardano gli amici, ok, ok, siamo pronti, facciamo, guardate